Sta caricando l'anello. La strada di Aragorn conduce a questo terribile luogo in cui un re di sudditi morti decide il destino di coloro che devono nascere. Deve essere sottomesso. Chi entra nel mio dominio? Colui che ti costringerà a rispettare il tuo giuramento. I morti non permetteranno di passare. Avrò la meglio su di te. Vente dimenticata. Venite a me. Obbediscono anche alla loro morte vivente. Riconquista il tuo onore. Una volta scacciato Sauron da queste terre avrai pace. Cosa vi dici? Riconquista il tuo onore. La strada è bloccata. Non morti, più se ne vediamo. Vento dalle montagne, io ti comando. Non so poi te mi metti, stai. Non so poi te mi metti, stai. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Combatti al mio fianco e chi libererò dalla tua morte vivente. Cosa mi dici? Mi... Arraggio... Dobbiamo uscire di qui. Presto! Crona tutto! Sta cronando tutto! Presto! Buon appetito! Buon appetito! E dai! Adesso complattiamo, eh! Buon appetito! 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 Grazie a tutti. 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 Che palle, che palle. Oh, finalmente. Abbiamo fallito. I morti lotteranno quando la nostra gente sarà più vicina.